musica 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 è occupato? musica chi lo cercano? gente che vuole parlare da fatico? tutto vostro allora vediamo se ho capito bene io mi levo dai coglioni ve lascio alla zona e tutti i cazzi e in cambio In cambio devi passare il 10%, pulito pulito. Una pensione di lusso, vita natural durante. No, no, mi sembra un'offerta generosa. C'è solo un problema, che sono troppo giovane per andare in pensione. Fiamo così, ripassate fra vent'anni, eh? Salutatemi in Libano. Io, mi sa che non ho capito. Oltre ai saluti, ditegli pure che se entra a Balmerano, ci esce con i piedi davanti. Ma se è scesso questa macchina, manco l'FM c'è qui. Tipica del sardo, idocchioso dentro e fuori. Idocchio o no, come torna Roma ci scappina contro tutta la camorra. Invece secondo me se ne starà buono e tranquillo a casa fa' sempre di buio. Primo perché ci ha torto, secondo perché gli conviene. Stavo a marciare la grande, regà. Ormai metà dei tossici di Roma si stanno a faccare la roba nostra. E te vedrai che tra un po' metteremo a ripropagare pure il sardo. Oh, ma siamo arrivati. La puzza di pisces arriva pure qua dentro. È un po' metteremo a ripropagare pure il sardo. Grazie per la visione!